Il sistema del trasporto pubblico su gomma in Emilia-Romagna ha erogato nel 2008 260 milioni di prestazioni. Sono oltre 3200 i mezzi che percorrono più di 116 milioni di chilometri di strade urbane ed extraurbane. Quasi 43 milioni di passeggeri che si muovono in un anno sui 1350 chilometri di rete ferroviaria utilizzando oltre 800 treni giornalieri. Per agevolare il cittadino a spostarsi in questa grande rete e incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico a favore di una mobilità più sostenibile, la Regione Emilia-Romagna e CUP 2000 hanno sviluppato Travel Planner. Travel Planner è un servizio di infomobilità che consente di calcolare gli itinerari e pianificare gli spostamenti dei mezzi pubblici in Regione. Il cittadino, in un ambiente unico e omogeneo, ha a disposizione tutte le soluzioni di viaggio offerte. Travel Planner, infatti, integra diversi gestori di trasporto pubblico. Il suo utilizzo è molto semplice. Un solo clic per iniziare. L'interfaccia intuitiva guida nella ricerca del proprio percorso. Data, orario, luogo di partenza e di arrivo, preferenza dei mezzi di trasporto, rapidi passaggi che consentono di visualizzare soluzioni di viaggio anche molto complesse. Ipotizziamo di doverci spostare da Parma a Fornovo Taro. Inseriamo quindi la data, l'ora in cui desideriamo arrivare, l'indirizzo di partenza e di arrivo e la tipologia dei mezzi pubblici preferiti. Un semplice clic sul pulsante cerca e Travel Planner ci suggerisce più soluzioni di viaggio, dando priorità a quella di minor durata. Il sistema calcola per noi il tempo di percorrenza di ogni singolo spostamento, compresi i tragitti pedonali, per raggiungere fermate e stazioni e costruisce l'itinerario tenendo conto delle coincidenze tra i vari mezzi di trasporto. Per essere alle 7 e un quarto in via Roma a Fornovo Taro, sappiamo quindi che dobbiamo recarci la fermata Teatro Regio di Parma in tempo per prendere l'autobus numero 2 delle 6 e 33. Dobbiamo scendere la fermata Garibaldi e recarci in stazione per prendere il regionale delle 6 e 40. Il treno ci porterà alla stazione di Fornovo Taro per le 7 e 7 minuti. Da qui possiamo proseguire a piedi per raggiungere la nostra destinazione. Travel Planner è dotato di un sistema di geolocalizzazione che permette di visualizzare su una mappa interattiva i percorsi proposti. Grazie alle icone si ha una visione intuitiva del percorso e di ogni singolo tragitto. Cliccando appaiono i dettagli del percorso, nome della fermata o della stazione, tipologia dei mezzi di trasporto, orari di partenza. Travel Planner, la regione che si muove.